Mi piglio una grande responsabilità nel dirvelo che non dobbiamo stare in Serie B là dove non ci compete per più di nulla Sono felice ogni giorno e orgoglioso di allenare questi ragazzi che mi danno grande disponibilità ed è importante che tutti si sentano fondamentali e determinanti per la causa Sta arrivando Scrotman al centro, farà d'altra parte per Iaghiello che segna il gol del 2-0 Grazie a tutti Salvatutto Martinez Salvatutto Martinez Salvatutto Martinez